Non era preventivato il fatto che io finissi a fare l'artista, infatti è successo tutto per caso, durante un viaggio negli Stati Uniti con mio fratello e la mia ragazza di allora, qua stiamo parlando del 99, quando io abitavo in Inghilterra, all'Olanda, facendo questo viaggio negli Stati Uniti, durante questo mese negli Stati Uniti finivamo in continuazione in studi di nostri amici e praticamente una volta è successo che, sì, c'era lo studio di Alessia, di una mia amica che si chiama Alessia, che aveva prestato parte dello studio a un artista che adesso è famoso, si chiama Piero Golia e lui praticamente stava facendo un lenzuolo bianco, stava con la sagoma di una scarpa da ginnastica, la stava riempiendo con dei bottoni arancioni. Allora mio fratello, che con l'arte contemporanea, così come anche io in realtà non sapevo allora nulla, non conoscevo null'altro all'infuori di Biennale di Venezia e MoMA di New York. Basta, questo era tutto quello che conoscevo allora, di arte contemporanea. Mio fratello gli disse che faceva schifo quello che stava facendo e di cercarsi un altro lavoro perché avrebbe avuto bisogno di trovare qualcosa con cui fare soldi, perché con l'arte non avrebbe fatto soldi. Poi invece lui ci disse che quella cosa era già venduta e allora Flavio disse, ma rivolgendosi verso i miei, mi disse ma scusa tu sai di perlomeno disegnare, hai sempre fatto sculture, disegni, perché non ti metti a farle pure tu queste cose, se questo qua guadagna, guadagnerai pure tu. E quindi facevo questa scommessa. Io Flavio e Lourdes, che era questa mia ragazza spagnola, e da allora tornati in Europa mi trasferì in uno studio squallidissimo in una zona terribile di Londra, che si chiama Hackney Central, e insomma e quindi mi sono messo di buzzo buono a fare, a lavorare nell'arco di… Ah, e allora scommettemmo, sempre tornando a New York, scommettemmo che avrei fatto la Biennale di Venezia, perché io ero totalmente all'asciutto, non sapevo come funzionasse tutto questo mondo. Sebbene avessi tutti questi amici a Londra, questi della Young British Art, che io conoscevo per feste, non per cose di arte, no? Non sapevo come funzionava, come funziona il mondo, il sistema dell'arte, e allora così ingenuamente scommissi che entro, non mi ricordo, tipo tre anni avrei fatto la Biennale di Venezia, cosa che poi è successa però cinque anni dopo, cioè nel 2005. Poi vabbè sì, fui anche in questo percorso facilitato dal fatto che, come spesso capita alle persone, a cui non importa nulla di un dato, come spesso capita alle persone ingenue, ecco mettiamola così, io ero circondato da… ero nel mondo dell'arte, perché avevo tutti questi amici, tra cui tutte queste stelle, stelline, stellette della Young British Art, questo movimento creato da Charles Hatch, e allora praticamente io capitai con tutti questi di qua, perché bazzicavo… finì col frequentare tutta questa cosa, perché bazzicavo questa zona che si chiama Brick Lane, dove tra l'altro abitavano, abitano, in realtà non ci abitano, ma fingono di abitarci Gilbert e George, queste due icone dell'arte britannica. Stavamo preparando la prima mostra in Cina di artisti non cinesi, di artisti occidentali, la prima retrospettiva, grande retrospettiva, che era tipo il 96, credo, 95, e quindi finì per lavorare il bussare alla porta, è la porta di questo studio, dove fingono anche di vivere, che non ci viene. Tramite loro è successo che, mentre preparavamo una seconda mostra, forse qualche tempo, un anno dopo, è successo che praticamente facevamo la proiezione di un film su di loro, al National Film Theatre, che è un posto molto importante dove fanno le prime di molti film, eccetera, e quindi ci vengono a prendere, ovviamente io lavoravo lì, vengono a prendere me, Gilbert e George, un altro ragazzo che lavorava lì, e ci portarono al National Film Theatre insieme, quindi arrivamo col tappeto rosso, così, poi dopo la proiezione andamo alla cena, alla festa, alla festa, e arrivai pure lì con questi due, quindi un sacco di queste persone, c'era tutto il mondo dell'arte che conta, con l'anglosassone fondamentalmente, americani, inglesi, eccetera, e quindi ho preso un sacco di contatti, almeno in quella occasione, ma a me non interessava fare l'artista, per cui non me ne sono, però poi mi tornò utile quando tre, quattro anni dopo mi misi a lavorare, seriamente, quindi ripresi i contatti con questa gente, che nel frattempo avevo comunque visto feste, cose, cene, eccetera, e quindi mi fu abbastanza facile, diciamo, avere la loro attenzione. Io ho avuto la fortuna di iniziare, sempre per caso, con una persona, una di queste persone che avevo conosciuto in questa serata alla festa di Gilbert & George, del dopo proiezione di Gilbert & George, che è questo Lorcan O'Neill, che è stato lungamente, per dieci anni o forse di più, il direttore di quella che era allora la più grande galleria commerciale del mondo, prima di Gagosian, e si trasferì a Roma senza che io sapessi nulla, e non sapendo lui che pure io mi trasferivo a Roma, più o meno nello stesso, anzi proprio nello stesso periodo, inizio del 2002, da Londra, io abitavo tra Londra e Laia, Schevening, che era un posto in Olanda, di Gino Laia, e ci incontrammo, ci imbattemmo letteralmente l'uno e l'altro a un incrocio, cioè a un angolo, girando l'angolo, come in un film, pum, lui è alto, quindi mi guarda, eh, Lorcan, oh what are you doing here? mi sono trasferito qui, pure io, pure l'altro, ah ma dai, sto cercando, sai che ho deciso di aprire, allora non parlava italiano, adesso lo parla all'inglese, lo parla bene, posso, dice sto aprendo questa galleria, sto cercando uno spazio qui, anzi vuoi venire a vedere uno spazio che potrebbe darsi che sia quello giusto, insomma ho visto pure questo spazio, quindi lui ha inaugurato con me, diciamo, nel senso che io già ero, che già, già lui mi aveva detto che avrebbe voluto, perché lui conosceva il mio lavoro da Londra, che avrebbe voluto iniziare con un paio di grossi nomi, infatti credo che la prima mostra fu Richard Long e la seconda Jeff Wall, e poi, quindi per avere già, per fare capire al mercato di Roma di chi stessimo parlando, e poi quindi introdurre un giovane, una sua giovane scoverta che ero io, quindi la mia prima mostra personale la fece a Roma con lui, quindi ho avuto la fortuna di non essere, diciamo, pescato da un pinco pallino qualunque che si voleva creare la carriera di, capito, di mercante, eccetera, ma da una persona importantissima e che poi tra l'altro ha anche una sensibilità artistica molto simile alla mia, e quindi poi da lì, per esempio, anche la biennale, quella del 2005, mi deriva da questo, cioè non penso che avrei mai fatto la biennale del 2005 se non avessi lavorato con Lorcan, essendo palermitano, essendo uno di quei palermitani che sono perdutamente innamorati della propria città, nella fattispecie ovviamente a Palermo, e anche il mio lavoro è molto informato, molto condizionato da quella che è la mia esperienza, la mia esperienza è pregressa con la città, dalla mia infanzia, dalla mia adolescenza trascorsa qui a Palermo, dai ricordi di Palermo e da come l'ho vista trasformare da come… sì, così basta. Cioè nonostante non ho bisogno di Palermo per… come fonte di ispirazione o di quant'altro, perché uno, non ho mai creduto nell'ispirazione, ma nel lavoro, cioè tu ti metti a lavorare, non sai cosa fare, ti metti a lavorare e lavori, i lavori, i lavori è qualcosa… finché non trovi una strada. E due, credo molto nell'isolamento, quindi la mia massima fonte di ispirazione, semmai potrebbe essere lo studio, il silenzio, la pace, anche se recentemente è un porto di mare. L'intimità del mio studio, come un mondo che è diventato come un mondo folle, organico, pieno di ricordi, ma anche di cose materiali che ho davanti agli occhi e si sono accumulate nel tempo, perché poi gli studi che ho avuto nel tempo me li sono sempre trascinati dietro, perché quando se ho ti ho una mostra da fare da qualche parte, per cui magari mettiamo servo… serviranno, e già dall'esperienza che ho fatto tra mosse personali e collettive in giro, lo so, so più o meno, posso quantificare il numero di lavori che serviranno per una data mostra, mettiamo che servono sette lavori in tutto, io ne faccio 40, 50, 10 dei quali terminerò, altri 30 non terminerò e si andranno accumulando in vari angoli e anfratti dello studio, che poi se cambio studio, se mi trasferisco da una città a un'altra, da uno spazio a un altro, mi trascino dietro. Io dipingo così, come dipingo, perché è come una sorta di terapia che faccio, è una cosa mia, una autoterapia per me stesso, non è più che per rappresentare qualcosa, in realtà è come una ricerca mia, come una mia ossessione, ma nulla a che vedere con ectoplasmi o con un di outer space, che ne so, cose di altri mondi, perché per me non è importante l'oggetto, cioè il soggetto del quadro, ma il mondo in cui viene immerso, come lo rendi, quella è l'unica cosa che mi interessa. Sì, rappresentare il mio mondo come, esattamente come mi piacerebbe di poter vedere il mondo attraverso, cioè rappresentarlo filtrato attraverso quel filtro attraverso il quale mi piacerebbe vedere il mondo camminando per le strade, praticamente siccome è, quello è impossibile, allora lo faccio attraverso la pittura. E infatti i miei lavori pittorici sono di una lunghezza, cioè per fare un quadro possibilmente ci posso impiegare due anni, tre anni, perché non so mai dove sto andando, cioè non dipingo con un progetto, capito, tipo adesso faccio questo, la montagna, la cosa, la casa, questa, quell'altro, eccetera, eccetera, ma è una questione di messe a fuoco, perché ragazzi, di stratificazioni, di cose che si vanno accumulando nel tempo, è quello che poi rimane di tutte queste stratificazioni che poi vengono cancellate, nel caso dell'olio, della pittura d'olio, purtroppo con un abuso di trementina che mi fa anche male fisicamente, fa male alla mia salute, in cerca di quel momento perfetto, ok, posso magari fare un quadro in una settimana così come in cinque anni. L'anno scorso ho fatto una mostra con dei disegni grandissimi di grafite, matita e gesto su carta, su tavola, di tre metri per due e sessanta, enormi, enormi, etc per di dentro, con pieni di dettagli, eccetera, a Londra. Questa serie l'ho iniziata, l'anno scorso sarebbe il 2010-11, insomma, questa serie l'ho iniziata nel 2003, ed erano cinque quadri, giorni. Quindi non sai mai quando finisci. Allora, questa è ovviamente una cosa faticosissima, perché è come non chiudere qualcosa, no? Come tipo un lavoro che non è finito, cioè sono preoccupato. Allora le installazioni invece sono come uno sfogo, una fuga da tutta questa pesantezza, perché invece sono molto semplici e anche riassuntive del lavoro, diciamo, pitto bidimensionale, perché uno sono molto legate, l'immaginario rimane quello lì, quindi tridimensionalmente è come una rappresentazione tridimensionale di quei lavori là bidimensionali. Però allo stesso tempo deleghi il lavoro sporco agli altri, perché mettiamo la Biennale di Venezia del 2005, che è stata la prima installazione che ho fatto, dove c'era riprodotto questo ambiente, questo salotto di un palazzo aristocratico del Settecento, dimensioni 1-1, scala 1-1, uno è stato fatto a Cinecittà, tutto in Betorresi, ma io sono semplicemente, me l'hanno poi portata a Venezia, me l'hanno montata, me l'hanno fatta, cos'è, io sono semplicemente fatto il progettino ed è una cosa che ti rinfranca perché dici, vabbè ogni tanto faccio pure qualcosa di semplice e poi in ogni caso ti serve a vedere come materialmente in un mondo tridimensionale, perché poi il bidimensionale è come un ghietto, cioè è proprio una cosa in cui tu non puoi accedere, quindi ne rimani sempre fuori e c'è un po' questa frustrazione, quindi vedere cosa hai imparato, come sei esaminato bene, insomma, là, nel tridimensionale. Grazie.